Ciao ragazzi, oggi abbiamo la domanda di Manuel che è una domanda bellissima e leggo Ciao Massimo, scusami se ti do del tu Parentesi, mi offendo se mi dai del lei perché mi fa sentire vecchio per cui datemi sempre del tu, grazie Il mio problema è che, per esempio, ho comprato molti dei libri dove tu estrai le pillole ma casomai ne leggo 40-50 pagine e poi non li apro più L'unico libro a cui sono arrivato in fondo è Padre ricco, padre povero Il mio sogno è quello di crearmi un'indipendenza economica e di aprire poi successivamente una catena di ristoranti ecosostenibili Io faccio il cuoco, ma non riesco ad avere quella scintilla per far accadere il tutto Come posso fare scattare quella scintilla? Grazie davvero per quello che fai Allora Manuel, questa è una domanda che interessa molte persone perché tantissime persone cercano l'indipendenza economica però nel tuo caso, la domanda secondo me posta male perché tu aspetti di avere l'indipendenza economica per raggiungere il tuo progetto quando probabilmente dovresti fare il contrario dovresti realizzare il tuo progetto, che oltretutto adori, ami quello che ti piace fare che ti permetterà di raggiungere l'indipendenza economica Quindi questo è il primo aspetto A porna parentesi, libri, ok, che inizia a leggere e non li finisce Anch'io tantissimi libri ho iniziato a leggere, non mi hanno preso e li ho messi nel cassetto perché probabilmente non hanno al loro interno quello che tu stai cercando quello che ti interessa, quindi nessun problema sotto questo aspetto Invece riguardo alla scintilla io penso che il problema riguardi quello che ti ho detto poco fa ovvero che tu in questo momento stai cercando l'indipendenza economica e non stai cercando di sviluppare il tuo progetto, il tuo sogno Quindi se tu cambi completamente la tua mentalità e inizi a ragionare su come posso fare per creare il mio primo ristorante perché se il tuo sogno è quello di creare una catena dovrai iniziare da uno semplicemente perché io sono sicuro che nel momento che ti concentrerai, ti dedicherai all'apertura, allo sviluppo del primo punto quella scintilla scatterà perché se quello che vuoi fare davvero l'energia la troverai e quindi la domanda che dovresti porti è come posso fare per iniziare a creare il mio primo punto che sarà il tuo primo passo verso la creazione di una catena questa è la domanda che devi farti, allora sì che troverai l'energia e troverai le risposte semplicemente perché inizierei a farti le giuste domande quindi come posso fare per aprire un ristorante di successo che abbia clienti che sia con le caratteristiche che io ritengo essere essenziale quindi che rispetti i valori in cui io credo nel tuo caso probabilmente un ristorante ecosostenibile per cui partendo da questa idea in testa sarà molto più facile riuscire a trovare la scintilla davvero perché sarai costretto a metterti in moto a cercare le informazioni che ti servono per raggiungere questo tuo obiettivo se però tu parti con l'idea di aprire una catena e vedi come obiettivo l'apertura di una catena di ristoranti vedrai l'obiettivo troppo lontano e difficilmente riuscirai a trovare quella famosa scintilla non scatterà quella magia che ti permetterà poi di iniziare a camminare per poi correre sempre più veloce per cui io ti consiglio di concentrarti sul primo semplicemente un obiettivo semplice tra virgolette perché l'apertura di un ristorante è tutt'altro che semplice per poi iniziare a fare tutto il resto come fare per aprire il tuo ristorante? questa è la domanda a cui devi trovare risposta quindi puoi cercare i soci finanziatori, puoi cercare degli investitori puoi cercare delle persone che condividono il tuo sogno e vogliono aprire il ristorante insieme a te ci sono tanti modi, sarà il tuo compito riuscire a trovare quello che è più adatto alla tua situazione detto questo ripeto, io non mi concentrerei sul cercare l'indipendenza economica perché quella è semplicemente una conseguenza di quello che fai direi che non ho altro da aggiungere se vuoi approfondire l'argomento su come avviare un'attività io ovviamente ti consiglio il mio corso Business Fire Up perché ti permetterà di creare le basi veramente solidi per riuscire a creare un'attività di successo e vista la tua idea di creare prima un ristorante poi una catena ti sarà estremamente utile con questo è tutto, spero di averti dato informazioni di tuo interesse e ci sentiamo alla prossima pillola ciao